Il riscatto popolare potrebbe essere la coalizione che con Giancarlo Silveri si presenterà le prossime elezioni amministrativa. La deadline è la metà di febbraio per sapere chi aderirà a questa coalizione, a questo progetto. Quale sarà la colonna portante del progetto? Intanto ad oggi noi non abbiamo rappresentato ruoli già definiti. Il ruolo e i ruoli li stabilirà la coalizione nel momento in cui si forma, man mano che si forma. L'asse portante è il dare a questa città un futuro, correggere le enormi quantità di cose fatte in modo raffazzonato, senza un progetto preciso, senza dire di che cosa deve vivere questa città e di questo territorio e quindi necessariamente dobbiamo cambiare aria. Riscatto popolare, perché la scelta di questo nome? Perché si vuole richiamare ai principi del popolarismo quello che ha fatto grande l'Italia, quello che spingeva la politica a occuparsi più delle prossime generazioni rispetto alle prossime elezioni. Quindi vuole essere un richiamo anche di modello di riferimento che purtroppo si è perso nel corso degli anni. Credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che si è trascurato tutto quello che può essere programmazione e si è fatto tutta una serie di azioni, talvolta nel chiuso delle stanze, talvolta facendo in modo che venissero privilegiati alcuni rispetto ad altri. No, per un'azione completamente scombinata e naturalmente quando è così c'è necessariamente un clientelismo insieme ad un populismo, insieme ad una demagogia che sono tipiche peraltro del Partito Democratico più di altri. Sarete vicino a qualche partito politico? Tutti quelli che vogliono starci e che siano alternativi al Partito Democratico. Grazie. Grazie. Grazie.